Musica Oggi siamo in questa splendida location, quella di Trigoria Rincontriamo naturalmente Carlo Bernabè, il produttore del film Le ultime 56 ore Allora Carlo, come mai siamo qui oggi? Buongiorno Andrea Ciao Siamo qui perché il film Le ultime 56 ore promuove l'associazione Bambin Gesù Per cui sono venuto a trovare gli amici Francesco e Luca Bene, Francesco Ciao, sono il papà di Chris e Chanel Ciao, sono il papà di Tommaso, Camilla e Benedetta Siamo qui per ringraziare Carlo Bernabè della LS Film Procrucio Perché il film Le ultime 56 ore sostiene l'associazione Bambin Gesù L'associazione è la onlus ufficiale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù Che è un punto di riferimento internazionale per bambini e adolescenti di tutto il mondo L'associazione si occupa di raccogliere fondi per sostenere e potenziare le attività dell'ospedale E in particolare per quanto riguarda l'accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie Ognuno di noi può fare qualcosa Può aiutare l'ospedale Basta poco Basta poco vai sul sito www.ospedale.bambingesù.it Ed entra a far parte della nostra squadra Grazie 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 Grazie